Quanto hai voltato per arrivare? Bastante, mi pare. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Il passaggio non è un solo passaggio. Un po' di più. Un po' di più. E perché tu devi andare in Italia? Per far qualcosa di più. Come c'è gente. Come tu. Un po' di più. Un po' di più. Grazie.